Un laboratorio musicale, uno spazio dedicato alla musica come di certo la loro insegnante avrebbe voluto. I ragazzi della scuola Falcone Borsellino di Santa Croce Camerina hanno presenziato all'intitolazione della nuova aula il ricordo di Orazia Salemi, la docente che per 41 anni ha insegnato nella scuola. Un vero e proprio laboratorio musicale con strumenti e arredi musicali donati alla scuola dal marito di Orazia Salemi, Vito Di Vita, che già in passato ha donato alla scuola degli arredi e degli strumenti, presente anche il provveditore Giovanna Criscione. Questo laboratorio, ha spiegato la preside Giovanna Campo, dovrà essere un luogo dove favorire la cultura per portare avanti la musica d'insieme, un luogo dove le nuove generazioni aiutate dagli evoluti mezzi di comunicazione e dalla tecnologia moderna imparino a coltivare l'amore per la cultura e i valori veri della vita concretamente espressi con gioia dalla nostra docente, che ha incarnato principi e valori che non vanno dimenticati ma presentati con orgoglio alle nuove generazioni.